Nulla da fare per il Trapani. Il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso della formazione siciliana, condannandola dunque alla retrocessione in Serie C. Resta tutto invariato, con Livorno, Juve Stabia e Trapani retrocesse direttamente dalla Serie B e play-out tra Perugia e Pescara. I Granata hanno pagato per i ritardi nel versamento degli emolumenti relativi alle mensilità di febbraio ai propri tesserati. Due punti di penalizzazione che sono risultati fatali per i siciliani che, qualora fosse stato accolto il ricorso, sarebbero stati salvi direttamente. Così non è stato e dunque il futuro del club del presidente Fabio Petroni è fortemente in dubbio. Lo è ancora di più a causa di un'altra vicenda emersa proprio nella giornata di ieri e relativa alla stagione 2018-2019, quella della promozione dei siciliani in B. L'amministratore delegato dell'epoca, l'irpino Maurizio Desimone, è stato infatti tratto in arresto dalla Guardia di Finanza di Trapani per aver sottratto dalle casse del club circa 200.000 euro e, secondo quanto raccolto dagli inquirenti, per aver utilizzato parte dei proventi illeciti provenienti da false fatturazioni, non solo per rilevare la proprietà della società Trapani Calcio SRL, ma anche per rimettere nella società calcistica una somma pari a 149.000 euro, quota necessaria per far fronte agli impegni di natura organizzativa imposti dai regolamenti della FGC senza incorrere a penalizzazioni.